Numerosi studi hanno rilevato che lo yoga ha un impatto positivo sulla salute. La combinazione di movimento, respirazione, meditazione stimola la produzione di antiossidanti naturali nell'organismo, rafforza il sistema immunitario. Studi scientifici riportano che praticare yoga ogni settimana aiuta la concentrazione di apoloproteine, le proteine antinfiammatorie. Lo yoga inoltre allevia lo stress favorendo l'equilibrio mentale e il legame mente-corpo. La saggezza di discipline antiche come lo yoga sta nella visione dell'uomo come un sistema connesso in tutte le sue componenti.